Fa ripartire le attività economiche di questo territorio e di questo che si è discusso nella sede Confindustria Vibo Valencia. Priorità è il mantenimento e la valorizzazione dell'esistente per il rilancio della competitività del territorio, impegno che passa obbligatoriamente dal completamento dell'infrastruttura a servizio del sistema imprenditoriale, prima fra tutte la risorsa Porto. Nello specifico Porto vuol dire servizi alle aree industriali, collegamenti interni tra aree industriali e sistema autostradale, dotazioni per la commercializzazione verso mercati esteri, la predisposizione di aree di assemblaggio e stoccaggio, il riassetto dell'offerta al turismo nautico e di portistico, il collegamento con le aree di retroporto destinate a servizi e rimessaggio. Ma non solo di Porto si vive e il partenariato di Agenda per Vibo ha manifestato la disponibilità a lavorare per l'inserimento di idee e progetti per il realizzando masterplan della Regione Calabria. A questa chiamata ha risposto con grande fermezza e disponibilità l'assessore regionale Carmela Barbalace, che ha confermato pieno sostegno alla rimozione dei vincoli che limitano l'imprenditoria vibonese.